Oggi, mercoledì delle ceneri, è stata la giornata del digiuno e della preghiera per l'Ucraina, iniziativa presa da Papa Francesco Ignazio Ingrao. Ecco le divisioni del Papa, mercoledì delle ceneri, le armi dello spirito, così le chiama Bergoglio, per fermare l'escalation militare. La nostra preghiera e il digiuno saranno una supplica per la pace in Ucraina. Imploriamo da Dio la pace che gli uomini non riescono a costruire. Il pontefice scende in campo e si schiera con chi sta sotto i bombardamenti. Le lacrime di padre Marco Gongalo, ucraino, parlano da sole. I suoi genitori sono in questo momento nei refugi, sotto terra, per difendersi delle bombe. Marcia anche la macchina degli aiuti. Il Papa invia materiale sanitario in Ucraina. La diplomazia vaticana non disarma. Bergoglio reclama corridoi umanitari e ringrazia i polacchi. Ieri chiedevano muri per fermare i migranti. Oggi, dice Francesco, hanno aperto i loro cuori e i loro confini. I nunzi a Mosca e a Kiev sono al lavoro. Il ministro degli esteri Luigi Di Maio e l'omologo vaticano Paul Gallagher si sono incontrati. Il soft power, la potenza morbida della Santa Sede, per sbloccare i negoziati e allontanare la minaccia nucleare. La Santa Sede si è offerta, come sempre, a poter mediare in quello che possiamo fare. Quindi abbiamo le porte aperte per qualunque iniziativa in questo senso. La pace nel mondo, ricorda Bergoglio, inizia sempre con la conversione personale. Il ministro degli esteri... Il ministro degli esteri... Grazie a tutti